Diatra, razza d'idioti. Contatta la squadra Inferno, ora. Comandante Versio, rapporto. Rilevata una squadra di recupero ribelle, ma è tardi per catturare i sabotatori. Qual è lo stato del generatore di scudo della morte nera? È già delle aspettative. Non si può riparare o riattivare. Allora la stazione è vulnerabile. Eliminate quei ribelli e tornate sul Corvus. Il piano dell'imperatore deve riuscire. Sì, signore. Ask, con me. Miko, tu ci coprirai da qui. Un bersaglio, qui davanti. State con me. Ricevuto, comandante. Situazione? Vi è il generale solo che potrebbe volerci un po'. Attenta, comandante. Un bersaglio lungo il sentiero. Tittate due squadre. d'assalto, una al bunker, l'altra vicino al camminatore caduto. Ben fatto agente, ora lascia fare a noi. Ricerca dei vici. Ci vuole ancora molto? L'impianto idraulico è saltato, l'esplosione è stata potente. Vuoi aprire? Credo di sì. Fatto. Bunker sotto controllo. Altri ribelli, aspettate il mio segnale. Sì, comandante. Analisi delle minacce. Fulminali. Comandante, rinforzi i ribelli in arrivo. Poco a volontà, neutralizzare tutti i versagli. Sì, comandante. Ricevuto. A posta. Non ho cuore di tiro. Dobbiamo rispondare. Tutti pronti. Mostra di le minacce. Neutralizzare. Siamo lì! Non ho stupendo! Stop! Abbiamo finito. Raggrupparsi è pronti ad avanzare. Raggruppiamoci. Libero. Ok, ma non possono essere tutti. Quei comandanti ribelli si sono già spostati. Seguiamoli. La piattaforma 4 è vicina. C'è una navetta? No, solo cacciatai. Ancora meglio. Stiamo attenti. Non sappiamo quanti ribelli siano. No, ci occuperemo di loro come con gli altri. Oggi spazzeremo via quella feccia una volta per tutte. Non è possibile. Coraggio, agenti. Piangeremo dopo. Adesso dobbiamo muoverci. Con te, comandante. Andiamo alla piattaforma 4 e prendiamo i cacciatai. Solo così torneremo al corpus. Tu, Miko, in battuglia. Sì, comandante. Agente Ask, contattare di Seritor. Devo parlare con l'ammiraglio. Sì, comandante. Apro subito un canale. Ammiraglio, la squadra Inferno si ritira da Endor. Qual è la situazione? Il viceammiraglio Sloan ha ordinato la ritirata. Abbandoniamo il sistema. Raggiungi la tua nave, comandante. Sopravvivi. Ti invio le coordinate del rendezvous. Sì, signore. Li contatteremo appena saremo sul corpus. Come è potuto accadere? La trappola era perfetta. Qualcuno ha sbagliato. L'alto comando ha trascurato un dettaglio cruciale di nuovo. No, deve esserci dell'altro. Noi eravamo più numerosi e meglio equipaggiati. È semplice. L'imperatore ha sottovalutato i nostri nemici. E ne abbiamo pagato il prezzo. Comandante, questo... Posso parlare liberamente? Concesso. Qui siamo soli, Ma questo suona soffersivo. Anza gli occhi, Ask. Non è tradimento, sei la verità. Attenzione, comandante. Battuglia ribella in arrivo. Grazie, agente Meiko. Ce ne occupiamo noi. Contatto visivo con la pattuglia. Guarda! Mi abbatto! Segniamo gli occupanti! Fuoco! Proprio merito! Battuglia neutralizzata. È quello che meritava. Comandante, Abbiamo perso una navetta e i nostri uomini sono sovrappati. Occhi aperti, agente. Noi faremo il possibile. Soprite la squadra in ferro! 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 Ricevuto, comandante! Siamo con voi! Non posso sparare! Ediminate i ribelli! Arma pesante! Tutti sistemati. Ora è meglio sbrigarsi. Comandante, segnalano trasporti nemici in atterraggio su Endor. Stanno schierando truppe su tutta la luna. Non ci tratterremo qui a lungo. Non ci aspettavamo, le forze speciali. Questo è il punto, sergente. Grazie, comandante. Siamo in debito. Comandante, guarda. All'attacco! Troiei, neutralizzati. Ricerca lì. Questa è una nuova. Sì. 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 Tutti pronti! Qui abbiamo finito. Agente Mico, la tua posizione? Ho radunato una squadra vicino alla piattaforma. Aspettiamo te, l'agente Ask, per muoverci. Arriviamo. Agente Mico, rapporto. I ribelli hanno occupato la piattaforma qua. Ci sarà da contatto. Siamo qui per questo. Soldati, dobbiamo strappare quella piattaforma al nemico e lasciare questa luna. Poi la ribellione ce la pagherà cara per tutto questo. Sì, comandante. Siamo con te. Per l'impero! I cacciatai sono al livello superiore. Dobbiamo eliminare ogni singolo livello o non ce la faremo mai. Allora sappiamo cosa fare. Agente Ask, tu vieni con me. Quando vuoi. Al mio segnale. Aprire il fuoco! Apri il fuoco! Neutralizzati. Quella coranza resiste ai blocchi. Il ribelli è un'armi pesante. Quanti aveva erne. Annonellamente le fuoco parlano. Sei che? Quali un colico? Tu un'armi pesante. Ruoco! A Scusi alzati. Neutralizzati, ora! Troide, vai! Scusi alzati. Scusi alzati. Scusi alzati. Ne dico affiscato! Scusi alzati. Scusi alzati. Scusi alzati. Neutralizzati, droghe. Neutralizzati. Neutralizzati. Scusi alzati. 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 Contatto sulla piattaforma. I nemici stanno sabotando le nostre navi per impedirci la fuga. Abbattiamoli. Imprendiamo i cacciatai per la fuga. Eliminare ed evacuare. Scusi alzati. Scusi alzati. Sì, comandante. 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 Caccia acquisito. Ci vediamo lassù, agente. L'ammiraglio aveva creato l'inferno perché qualcosa del genere non succedesse più. Lo so, incredibile vedere quel che resta. Questo caos mostra il vero volto della ribellione. E' il motivo per cui combattiamo da così tanto. Volevamo spaventarli, ma si sono infuriati. Qualcuno mi disse che le ribellioni si fondano sull'odio, lo credo ancora. Come possiamo contrastarlo? L'impero cambierà, come dopo la perdita della prima morte nera. dobbiamo adattarci. Dobbiamo adattarci o morire. Le quante sono imperiali? Non molte. I nostri si sono ritirati o sono stati distrutti. E lo star destroyer dell'ammiraglio? Leviserator è in posizione vicino al Corvus. Sembra pienamente operativo. Almeno Ask non è da solo sul Corvus. Forse possiamo ancora uscirne vivi. Agente Ask, ci avviciniamo al Corvus. In che stato sono i motori? Lezione a Ioni al 60%. Revio l'energia degli scudi per riavviare i sistemi di propulsione. Comandante, caccia in arrivo. Bombardieri, difendiamo il Corvus. È il primo di scudi. Uno in meno. Per lui è finita. Bombardieri, stanno attaccando. Caccia eliminato. Colpo diretto. Agente Ask, rapporto. Cambiamo le coordinate del rendezvous, ma ci serve tempo per riparare i motori. Ve lo daremo. Agente Mico, occupiamoci di bombardieri. Davvero un bel colpo. Dovrebbe bastare. Comandante, mi serve aiuto con quei bombardieri. Bersaglio eliminato. Bombardieri distruggeranno il Corvus. Motori quasi pronti, comandante. Il mio Scandaf, rileva altri bombardieri. Uno in meno. Per lui è finita. Niente male. Aspetto in funzione, comandante. Tempismo perfetto. Agente Mico, al Corvus. Io ti seguo. Comandante Verso, ordina la tua nave di ritirarsi, poi raggiungimi sulle Visereto. Signore? Ordini confidenziali, comandante. Te li darò di persona. Sì, ammiraglio. Squadra interna. Io e l'ammiraglio vi raggiungeremo in seguito. Ricevuto, comandante. Grazie mille! Mi cerchevate, signore? Vieni qui. L'imperatore è morto. Che succederà ora? Ci vendicheremo, comandante. L'impero colpirà la ribellione esattamente alla radice delle sue patetiche e profonde convinzioni. Dimmi, Aiden, da dove hanno origine tale convinzione? Speranze. Esatto. Lo vedi? La sua presenza è un grande onore, che condividerò con mia figlia. Ammiraglio Versio, l'operazione cenere deve iniziare immediatamente. Resistenza, ribellione, tradimento. Queste sono idee che non possiamo più continuare a tollerare. Tu sei uno dei molteplici strumenti che ci permetteranno di spazzare via questi ideali. Ascolta il messaggero. Lui ti indicherà il tuo prossimo bersaglio. L'operazione cenere è l'ultima volontà dell'imperatore. Il primo passo verso il nostro futuro. La Inferno ha un ruolo cruciale per il successo. Qual è il bersaglio? Identità non verificata. Questa informazione può aspettare. Per ora, i tuoi ordini sono questi. Sono insoliti. Ma questi sono tempi insoliti. Vai, comandante. Fai quello che fai meglio. La Inferno ha un ruolo cruciale per il successo.